Ciao a tutti ragazzi, qui è Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 E oggi andremo a vedere la nuova Comet, ovvero la nuova Porsche che avremo insomma su GTA con il DLC Import ed Export Per il momento questa qui insomma fa parte delle auto segrete che non sono ancora state rilasciate online Però probabilmente tra insomma poco tempo dovremmo comunque averla online Il suo prezzo dovrebbe essere di circa 700.000 dollari E come potete vedere è una versione, insomma un'altra versione della Comet, una versione retro custom Perché su GTA abbiamo già la Comet normale che sarebbe sempre la riproduzione più o meno della Porsche Questa qui insomma è la versione retro custom Molto molto bella tutta questa carrozzeria super modificata, super tuning Quindi entriamo subito ragazzi al suo interno per andarla a modificare da Los Santos Custom E forse anche per quest'auto avremo delle personalizzazioni da Benny come Livree e magari qualcos'altro Non ho un'idea, comunque vi devo assolutamente fare sentire il rumore dell'auto Niente è una cosa bellissima Allora entriamo dallo Santos Custom Ok abbiamo qui infatti come vedete Epifister Comet Retro Custom Quindi fa parte diciamo dell'Epifister Allora armature al massimo Diciamo che qui non mi aspetto molte personalizzazioni perché già è veramente super modificata Quindi non lo so Allora paraurti, anteriore Ok no ne abbiamo tanti invece Abbiamo tante personalizzazioni Allora colore 2 Ok questo insomma è come quello standard però cambia il colore Prende quello secondario Poi da strada Uuuu guardate qui che particolare Da strada secondario MK2 Diciamo che è quello di prima però con Appunto qualche leggera differenza Si con queste cose laterali Poi c'è il colore ovviamente secondario per tutti i vari paraurti Questo è bellissimo Molto molto bello da strada Poi da pista addirittura E poi da pista MK3 Ok ragazzi MK4 mamma mia Personalizzazioni assurde Da gara MK1 Eh questo è un po' più normale Quelli sono super esagerati MK2 Niente Veramente tanti Però io devo per forza mettere C'è questo Guardate un po' Alla fine tra MK4 e 3 Cambiano veramente pochissime cose Si ragazzi cambiano proprio poche cose In alcune c'è il gancio In altre no Forse il 2 è il migliore Si perché il gancio non lo voglio No anzi il 4 è il migliore Si Mettiamo il 4 ragazzi Per il momento Poi posteriore Cosa abbiamo? Diffusore piccolo Colore 2 Ah prende tutto il colore Ok del paraurti Diffusore grandi invece Che cambia? Che ovviamente è più grande Ok Eh però vabbè Lasciamo Eh non so Potremmo anche dare il colore secondario Però Non vorrei ragazzi Perché il colore secondario Prende proprio Completamente tutto Però ci potremmo anche provare Vabbè dai Mettiamolo Secondario Grande Si vai Secondario grande A questo punto cambio pure quello Anteriore Metto il colore secondario MK4 Colore 2 Ecco qui Perfetto Poi andiamo a vedere Gabbia di sicurezza Mezza gabbia da strada Per chi ha mezza Ah ok Soltanto la parte posteriore Poi gabbia protettiva Invece forse totale Si Imbottita addirittura Intera E poi intera imbottita Vabbè La mettiamo ragazzi Intera imbottita Dai Personalizziamola al massimo Ma diciamo che quest'auto E' veramente una cosa Molto esagerata Cioè sembra adatta Ad altre gare Che in questo momento Non ci sono su GTA Ora Si potrebbe pensare a qualcosa Di nuovo sulle gare Ma mi sembra un po' difficile Come cosa Però è sicuramente Un'auto nuova su GTA Con tutte queste personalizzazioni Di carrozzerie Eccetera Comunque Poi andiamo su motori Li mettiamo al massimo Marmitte Cosa abbiamo? Punta cromata Ok Poi tuner in titanio Guardate un po' bellissimo Big bore E poi Shakotan Ok ragazzi E queste sono le più particolari Il nome è diverso Dagli altri molto diverso E anche le marmitte Sono molto diverse Quindi Li mettiamo assolutamente Perché è super aggressivo Parafanghi Arcate Uh Ok Qui possiamo modificare Uh Mamma mia ragazzi Mamma mia Niente Va bene Scorriamo Io non dico nulla Scorriamo Ok Sono finite Niente Praticamente possiamo mettere Qualche presa d'aria Qui nei parafanghi E cambiare anche il colore Queste qui sono in carbonio Però cambio il colore Della presa d'aria Che prende il colore principale E lo lasciamo Sì Perché no Potremmo metterlo Sì ragazzi Dai mettiamo il colore principale Eh Cofani Mamma mia Quante personalizzazioni Ok Griglia larga Perfetto Questo prende il colore secondario In carbonio Da strada Poi Da strada in carbonio Areato Bellissimo Guardate qui No ragazzi Ci sono delle cose Diversissime Diversissime Da tutte le altre auto Ok sono finiti E vabbè Qui potrei tentare Il carbonio Però quale Da strada in carbonio Mmm Areato Non è male Ma Voglio questo Sì per forza Da strada in carbonio Bellissima ragazzi Auto fantastica Io diciamo che adesso vorrei Cambiare il colore rosso Con il bianco E fare praticamente Questa colorazione Lasciare poi il tettuccio Normale Che dovrebbe far parte Eh Insomma Del colore secondario Allora Luci Faria Lo xeno Poi Schema neon al massimo Eh I neon Li vedremo dopo Come sempre Verniciature Colore principale Metallizzati Ecco qui Allora Questo è il colore principale Dell'auto Come potete vedere Questo rosso È molto più bello Rispetto a quello di prima Mamma mia ragazzi No Ma è troppo bella Cioè Queste nuove auto Sono assurde Veramente Comunque Ve li faccio vedere tutti Però io vorrei puntare al bianco Anche se il rosso Lo potremmo pure lasciare Effettivamente Io non lo so Veramente Non ne ho idea Allora Vi faccio vedere un po' Tutte le varie colorazioni Mmm Molto molto belle Ok Questo è il Panna Poi bianco ghiaccio Bianconeve Si è bellissima Ma il rosso Sinceramente Mi ha colpito troppo Quindi Ragazzi Io Punto al rosso Vediamo un po' Qualche rosso Rosso particolarissimo Questo vino Caramella No caramella no Vediamo Il lava Prendiamo Il lava Classico Che dà anche Questo perlescente Insomma chiaro Vicino al giallo Arancione Si dai Possiamo mettere questo qui Alla fine Così abbiamo Anche un altro colore Magari in controluce Ragazzi mettiamo questo qui Rosso lava Poi andiamo a vedere Se c'è qualcos'altro Ah il colore secondario Ovviamente Che cambierà il tettuccio E tutte le altre parti Si E qui mi sa che metteremo Noi il nero in carbonio Comunque Vi faccio vedere anche Gli altri colori Ragazzi Auto Molto molto Particolare Vabbè si Qui ci sta per forza Il nero in carbonio Cioè non posso mettere altro Non posso assolutamente Mettere altro Ovviamente poi Si potrebbero cambiare Tutti i parafanghi Eccetera Poi non Mettiamo questo qui Nero in carbonio C'è da vedere Se non ci sono però I tettucci Perché può essere Minigonne Ok Guardate qui Che personalizzazioni Vabbè li mettiamo Alle minigonne Però ragazzi Vedete Cambiandole Non c'è più La striscia rossa Diventa direttamente Tutto di un colore Eh no Eh no Questa cosa No no Io voglio la striscia Voglio la striscia Perché proprio fa parte Dell'auto Non la voglio cambiare Assolutamente no Spoiler Addirittura Ala colorata Mamma mia Mamma mia Alettone drift Alettone tuner Spoiler alto In carbonio Che cazzo è questo Ala tipo in carbonio Alettone gt alto BGV Deportazione estrema Deportazione estrema Eh Io ragazzi Lo metto Sì per forza Che poi Era quello che costava meno Non so per quale motivo Vabbè comunque sia Io l'ho messo Questi qui sono Sono troppo Escono troppo Dall'auto Non so come spiegarvi Questa cosa Però Questo qui Mi sembra più normale Cioè è sempre aggressivo Ma più normale Questo sembra più Un pezzo Messo così a caso Quindi Sì ragazzi Lasciamo questo Deportazione estrema Perché è veramente estrema Poi sospensioni Da gara Eh Trasmissioni anche Turbo al massimo Poi ruote Allora queste sono quelle principali Standard Del veicolo Ma se non sbaglio Fanno già parte del gioco Perché io me ne ricordavo Già altre del genere Quindi andiamo su sport Vediamo un po' Cosa troviamo E qui Dobbiamo cambiare Comunque il colore Non so perché Ma c'è questo colore Tipo dorato Non ne ho veramente idea Io non Non ho cambiato nulla Ma sono proprio standard Dell'auto Nella colorazione Allora Questo cos'è Venum Vediamo Ma potremmo lasciare Quelle standard Sinceramente Io non so cosa Potremmo mettere Ragazzi Forse queste Sì Non lo so Non ne ho idea Vabbè Lasciamo Mettiamo queste qui Che sono simili A quelle standard E cambiamo però Ovviamente il colore Perché non ci sta molto Nero Eh sì Per forza Le mettiamo nere Mamma mia Che auto E poi Pneumatici Personalizzate Ok Poi Antiproiettile Fumo Rosso Voglio metterlo Perfetto E poi cosa abbiamo Finestrini Molto oscurati E poi nient'altro Dobbiamo mettere i neon Però Allora neon I fari li abbiamo messi Sì Ok Kit neon Schema Al massimo L'abbiamo già messo Colore Qui ragazzi Metteremo Che cosa Qui ci sta Qui ci sta ragazzi Eh sì Qui ci sta L'arancione Perché Col perlescente Come vedete Con il colore Rosso lava C'è questa specie Di arancione In controluce Nella verniciatura E quindi sta benissimo Il neon Effettivamente sì Quindi lo mettiamo Eh niente Possiamo uscire Dallo Santos Custom Vabbè vi faccio vedere Anche un attimo Gli altri neon Che alla fine Sono comunque Sempre gli stessi Quindi c'è Veramente poco da vedere Usciamo Dallo Santos Custom Questa ragazzi È la nostra Nuova Comet Nuova Porsche Molto bella Guardate un po' Auto super personalizzabile Mamma mia Sbanda Veramente Che è una meraviglia Qui proprio Si possono fare I peggio drift Le cose assurde No niente È bellissima Vi faccio vedere Anche l'interno Che non vi avevo mostrato Se non sbaglio Un interno Abbastanza normale Non ci sono cose Insomma particolari C'è ovviamente La gabbia di sicurezza Con Insomma Le varie cose La gabbia di sicurezza Imbottita Che abbiamo modificato Prima Allora cerchiamo Di correre un po' E vedere La potenza Di quest'auto Comunque si ragazzi Questa qui è una sportiva Non una super Perché di conseguenza L'altra Comet Era una sportiva Comunque va molto veloce Eh si Si potrebbe piazzare Probabilmente Tra le sportive Più veloci Del gioco Diciamo che La massacro Per ora domina Quindi Non lo so Non so Se sia più veloce Questa della massacro O meno Non ne ho idea Però essendo un contenuto Nuovo E super personalizzato Dovrebbe essere più veloce Comunque sia È bellissima Cerchiamo di girare un po' Ragazzi Molto particolare Il prezzo è di 700.000 dollari Però poi ovviamente Ci saranno Le varie modifiche Da fare Comunque ci fermiamo qui Ragazzi Che dire Questa era Insomma un'altra auto Non ancora rilasciata Del DLC Import ed export Probabilmente arriverà Insomma tra Tra poco tempo Online Tra qualche martedì La vedremo sicuramente Sul leggendario di motorsport O su qualche altro sito Insomma delle auto Su GTA Fatemi sapere anche voi Cosa ne pensate Di queste auto Se vi piacciono Non ovviamente La personalizzazione Che ho fatto io Ma proprio l'auto In sé Se queste nuove auto Carruzzerie Eccetera Vi piacciono Vi fanno piacere A me ragazzi Piaciono veramente tantissimi Infatti Voglio comprarle tutte Queste nuove auto Però sicuramente Insomma Ci vogliono tanti soldi Perché i prezzi Sono molto alti Comunque sia Qui è Dexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti 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 Al prossimo episodio